Scandola a tutti! Scandola a tutti! E' che l'emozione qualcuno dalle quinta sta dicendo cazzate! E' bello è parlarne tu per tu! Io vorrei vedere quante persone mi sono passate cinchiali senza spararli perché devono adormentare! E' sicuro! E' sicuro! A me quattro! E' sbagliato il telefono! Sbagliato e non sbagliato non importa! L'importante è che siamo certificati! L'importante è che siamo certificati! Quattro! L'importante è! Ah! 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 Trova! La te l'ha vinto! Io non ti credo! Ecco i mali! Accapai dentro eh! Come ti pietà? Oh! Mi c'ho! Stati da chiedere! No! Padre piccato! Bus! La te la gattugin! Il padre piccato i pelais! I buppano ben! I buppano ben! I buppano ben! I buppano ben! help! Piaci! prima cosa che intendo